Via Masci, via Vespucci. Allora, sinistra stadio, a destra centro. Ok, devo andare verso lo stadio, quindi vado a sinistra. Che succede qui? Un incidente, l'ennesimo. Il video di Gianni Mantini su un gruppo Facebook sta guadagnando 10.000 visualizzazioni al giorno. La strada più chiacchierata di Pescara è diventato un must e non manca la sorpresa finale del tamponamento. Un'occasione ghiotta per bocciare i lavori dell'amministrazione Masci. Nei fatti però tocca fare i conti con i numeri. E se da un lato ci sta chi percepisce Viale Marconi come la strada più pericolosa della città, dall'altro tocca analizzare i dati. Dall'inizio dell'anno ad oggi gli incidenti rilevati dalla polizia locale di Pescara su Viale Marconi sono 11, di cui 8 conferiti. I sinistri complessivi dal 2017 sono stati 129, 13 nel 2017, 26 nel 2018, 13 nel 2019 e 16 nel 2020. E la situazione non cambia nemmeno per gli anni 2021-2022, i cui mesi a cavallo sarebbero quelli incriminati o quelli percepiti più a rischio dopo i lavori di riqualificazione che hanno cambiato la viabilità. In proporzione sostanzialmente se raffrontiamo questi dati con gli incidenti rilevati nel 2021-2022 ad oggi la percentuale è leggermente scesa, leggermente inferiore perché nel 2021 la percentuale era del 4,76%. Parliamo di numeri? Parliamo di numeri, nel 2021 erano stati rilevati nel corso dell'intero anno 23 incidenti, nel 2022 24 incidenti. Quindi diciamo in linea di massima siamo leggermente al di sotto rispetto alle medie degli anni precedenti. Certo è che a lavoro terminato si faranno i conti. La vicina Viale Benedetto Croce intanto costituirà un anello non di poco conto per la circolazione sì che i semafori alle rotatorie sono uno step fondamentale. Si attende insomma il passaggio del bus come da progetto della giunta Masci al centro che dovrebbe garantire sicuramente più ordine. Abbiamo altre strade sul territorio cittadino, quali possono essere Via Nazionale Adriatica Nord piuttosto che Via Tirino, Viale Riviera, Via Tiburtina che sostanzialmente hanno dei tassi di incidentalità analoghi a quelli di Viale Marconi.